Le bandiere sono tornate al loro posto, ma resta la gravità del gesto di chi ha pensato di tagliare i cordini e far scivolare gli stendardi ai piedi della statua, che rappresenta il dolore dell'uomo caduto in guerra. Ad accorgersi dell'atto vandalico un cittadino, Mario D'Antuono, il quale, passeggiando per Piano della Croce, ha segnalato che da diversi giorni il tricolore e la bandiera dell'Unione Europea erano gettate in terra. L'archeologo arianese ha giustamente evidenziato come l'accaduto potrebbe essere catalogato al reato penale di vilipendio alla bandiera. Difatti, l'articolo 292 del Codice Penale Italiano recita che chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. In questo caso la linea adottata è molto più morbida anche perché è passato del tempo e oramai anche le telecamere di videosorveglianza hanno cancellato automaticamente le registrazioni. Ma in verità si pensa che molto probabilmente a causare la caduta del tricolore delle stelle europee possa essere stato anche un semplice pallone o un altro gioco di bambini. Cosicché l'amministrazione con l'interessamento dell'assessore Raffaele Lipizzi ha provveduto a ripristinare gli standardi del monumento ai caduti facendo intervenire gli operai comunali. Non manca però l'appello ad essere tutti un po' più rispettosi del patrimonio comunale, dai più piccoli ai grandi e soprattutto a riconoscere i valori legati al tricolore e alla storia della nostra nazione. Grazie a tutti.